Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, continua a far tremare l'Europa Emmanuel Macron, il prodotto in vitro Rochild, il presidente della Francia, il quale presidente Gallico ha detto prepariamoci alla guerra. Non è nuovo a queste sortite temerarie Macron, da che già nelle settimane scorse aveva detto di essere favorevole all'invio di truppe europee in Ucraina e adesso dice testualmente prepariamoci alla guerra. Ora è evidente come la follia domini in Europa, bisognerebbe rivedere con attenzione Guernica di Picasso, che è un'immagine perfetta della follia che sta dominando anche oggi in Europa. Macron è accecato dall'ira, dall'ivore verso la Russia di Putin, ma noi vorremmo ricordare timidamente al gallico Macron che la Russia non ha fatto di per sé nulla contro l'Europa, non ha mai fatto nulla in questi anni contro l'Europa, contro la Francia, contro l'Italia. Perché mai dovremmo entrare in guerra contro la Russia? Perché mai mandare al fronte i nostri cittadini a morire per le ragioni di chi? Di Washington, dell'imperialismo, del guitto Zelensky? Semmai storicamente, piccolo ripasso storico a beneficio di Macron, è stata l'Europa, anche la Francia tra l'altro, anche l'Italia, a fare campagne di Russia contro la Russia, invadendo la Russia, peraltro tutte con esiti non particolarmente felici. Ecco, tra l'altro voglio anche ricordare a Macron che dobbiamo alla Russia il fatto che ci ha liberati in quanto europei, o abbiamo perduto la memoria. Se siamo stati liberati non è stato, come ci dice Washington o Hollywood se preferite, solo dagli americani, ma soprattutto dai russi. E però ci dicono che dobbiamo essere eternamente grati agli americani perché ci hanno liberati, però non vale per i russi questa gratitudine eterna, anzi adesso secondo Macron dovremmo muovere guerra alla Russia di Putin. Davvero, vi è del metodo in questa follia per dirla con l'Amleto.